Le cinture di sicurezza omologate per i cani sono obbligatorie per legge, ecco come si usano e dove è possibile acquistarle per essere in regola nel trasporto di animali domestici in auto. Cinture di sicurezza per cani, cosa dice il codice della strada? Il codice della strada, tra le altre cose, prevede degli obblighi da rispettare in tema di viaggi in automobile con il cane, per renderli sicuri e piacevoli la legislazione dispone l'obbligo di utilizzo della cintura di sicurezza omologata anche per i cani, che altrimenti dovranno viaggiare nel baule oppure sui sedili posteriori ma sempre separati da una rete. Chi viaggia con un cane senza rispettare questi obblighi costituisce un pericolo per la circolazione e per questo risulta sanzionabile. Con una multa che parte da 68,50 fino a 275,10 euro, oltre alla decurtazione di un punto dalla patente, chi trasporta animali in auto non può assolutamente usare le cinture di sicurezza delle persone, quelle di cui è normalmente dotata. Quasi, ogni auto, ecco dunque che servono quelle apposite per cani. Ma dove trovarle e come usarle? Cinture di sicurezza per cani, dove acquistarle? Detto ciò è chiaro che risulta assolutamente vietato viaggiare con cani in braccio o liberi nell'abitacolo, visto che possono essere una distrazione per chi guida e un pericolo per i passeggeri. Ma dove acquistare le cinture di sicurezza omologate per i cani? Come molti accessori per auto, le potete trovare prima di tutto nei negozi specializzati, ma anche ovviamente online, in entrambi. I casi a prezzi molto abbordabili, in poche parole si tratta di imbragature da agganciare in pochi istanti alle cinture di cui è normalmente dotata l'auto che costano al massimo poche decine di euro. Ricordate sempre che i sistemi di ritenuta omologati per i cani presentano chiusure universali che permettono al dispositivo di adattarsi. Ad ogni genere di auto, la maggior parte di queste imbragature si agganciano direttamente al collare o alla pettorina, garantendo un attacco comodo e senza dover acquistare varie componenti.